Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. A Palazzo Cesaroni la prima commissione ha ascoltato in audizione i vertici dell'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia. La prima commissione consigliare, preseduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione il presidente nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, Fiorello Primi, e il coordinatore Umbro, Antonio Luna. I rappresentanti dell'Associazione hanno sottolineato come i Borghi Più Belli d'Italia nasce per dare maggiore visibilità a piccoli centri turistici del nostro paese e oggi conta 264 comuni. L'Umbria è la regione maggiormente rappresentata con 25 borghi ammessi che rappresentano il 27% dei comuni umbri nei quali però arriva il 35% dei turisti che visitano la nostra regione. Ogni anno, hanno detto i vertici dell'Associazione, portiamo avanti almeno una decina di azioni promozionali nel mondo con grandissimi risultati. Questa audizione è la prima occasione per noi di essere ascoltati in regione e speriamo che sia l'avvio di una collaborazione visto che l'Associazione sta promuovendo dei progetti comunitari. L'Umbria deve ancora definire i propri attrattori per i programmi europei 2014-2020 e ci auguriamo che i piccoli borghi siano tra questi. L'Associazione ha presentato il progetto Big Fest in Umbria che mette in rete le nostre realtà per promuovere il turismo e creare le condizioni per un armonico sviluppo economico e sociale delle nostre comunità. Infine, è stato specificato che sono nove i comuni aderenti ai borghi più belli d'Italia con problemi legati al sisma del 24 agosto scorso a partire da Amatrice e Norcia. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato con la sola astensione del Movimento 5 Stelle l'atto di programmazione 2015-2016 relativamente agli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. Il bilancio 2016 prevede 187 mila euro per le politiche locali di sicurezza, di cui 140 mila in favore dei comuni Umbri da destinare esclusivamente alla videosorveglianza delle aree artigianali e industriali. L'assessore Fabio Paparelli, illustrando l'atto, ha spiegato che subito dopo l'approvazione lavoreremo sui nuovi testi dei patti per la sicurezza di Perugia e Terni che scadono il prossimo anno. Previste nel testo unico per il commercio misure per la delocalizzazione temporanea di attività per calamità naturali o di particolare gravità. La proposta dell'Aggiunta regionale si trova all'esame della seconda commissione. In presenza di situazioni di particolare gravità, eccezionalità e di calamità naturali, potrà essere possibile la delocalizzazione totale o parziale delle attività commerciali, ricettive e agenzie di viaggio in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate e dichiarate inagibili o in aree opportunamente attrezzate e immediatamente adiacenti. E la proposta, formulata in seconda commissione dall'assessore regionale allo sviluppo economico, Fabio Paparelli, nell'ambito della più ampia discussione sul disegno di legge della Giunta, che prevede modificazioni e integrazioni al testo unico in materia di commercio. Insieme dunque ad altre modifiche tecniche e sostanziali, viene previsto un apposito articolo che riguarda situazioni di particolare gravità che vanno ad incidere sullo svolgimento delle stesse attività commerciali. Per la delocalizzazione, viene prevista la segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune, corredata dalla autocertificazione del mantenimento dei requisiti, con possibilità di incremento massimo del 20% della superficie di vendita. Viene infine previsto che entro 12 mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell'immobile originariamente dichiarato inagibile, si proceda alla rilocalizzazione dell'attività o al consolidamento della stessa nelle nuove strutture individuate. Il voto sull'atto è previsto a fine mese. La terza commissione prosegue l'istruttoria sul disegno di legge per le politiche di genere. Nell'ultima seduta, audizione del Centro per le pari opportunità. Nell'ambito dell'istruttoria relativa al disegno di legge della Giunta regionale Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini, la terza commissione consigliare presieduta da Tilio Solinas ha ascoltato in audizione la presidente del Centro per le pari opportunità, Chiara Pucciarini. Il CPO dovrebbe occuparsi a 360 gradi delle disparità di genere, ma il suo ruolo istituzionale non è abbastanza riconosciuto, secondo la presidente. Vorremmo partecipare alla definizione degli obiettivi regionali e delle strategie in materia di pari opportunità, essere a supporto di tutte le politiche regionali, ampliando il raggio d'azione del Centro. Si avverte l'urgenza di un quadro normativo omogeneo di riferimento per le politiche di genere in Umbria. La commissione ha successivamente proseguito nell'esame dell'articolato. In settimana è tornato a riunirsi il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale. Prosegue il lavoro di analisi dell'attuazione delle delibere consigliari relative a proposte di risoluzioni, ordini del giorno e emozioni da parte del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale. L'organismo presieduto da Raffaele Nevi si è riunito a Palazzo Cesaroni per una seduta dedicata al report conclusivo sull'analisi di otto delibere approvate dall'Assemblea legislativa nella nonna legislatura, vagliate da uffici e commissari per verificarne la concreta attuazione da parte della Giunta regionale. Gli atti di cui è stato vagliato il livello di attuazione sono relativi ai danni da fauna selvatica, alla sindrome da sensibilità multipla, all'indennità di esclusiva per i medici del servizio sanitario regionale, al Fondo regionale per la non autosufficienza e ancora all'autorizzazione al funzionamento dei servizi socioassistenziali di carattere residenziale, alla stabilizzazione del personale precario dei comuni, al Consorzio Scuola Umbra di pubblica amministrazione e ai protocolli di legalità contro le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Nelle prossime sedute il Comitato per il monitoraggio avvierà le verifiche sugli atti ispettivi ed indirizzo approvati dall'Aula nell'attuale legislatura. La Commissione Sanità e Servizi Sociali ha anche effettuato un'audizione in merito all'alto tasso di incidenza delle malattie oncologiche del Comune di Città di Castello. Nell'audizione con medici, tecnici dell'ARPA, del Servizio Prevenzione, del Registro dei Tumori, Sindaci e Associazioni dei Cittadini è emerso, spiega il Presidente della Commissione Sanità, Tilio Solinas, che in alto tevere il tasso di incidenza dei tumori in generale non risulta superiore alla media, tranne che per il tumore allo stomaco e segnatamente per gli uomini. La causa preponderante è l'elicobacter, oltre a fattori genetici e legati agli stili di vita. Sarebbe dunque importante poter fare uno screening per rilevare l'eventuale presenza di questo tipo di neoplasia. In questo senso la Commissione si adopererà per giungere a una proposta di risoluzione da valutare nel nuovo piano sanitario regionale. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere della Lega Valerio Mancini, che aveva espressamente richiesto l'audizione con gli esperti per dare risposte ai cittadini del territorio dopo la diffusione a mezzo stampa di notizie circa l'alta incidenza di malattie oncologiche nel territorio dell'Alto Tevere. Dai dati del registro tumori, resi noti nella riunione, è emerso anche che la tendenza degli ultimi anni è verso una diminuzione sia della incidenza dei tumori allo stomaco che della mortalità. Ogni anno meno persone si ammalano di cancro allo stomaco, che comunque rimane a elevato indice di mortalità. Più contenuto il tumore del polmone, il tumore più frequente in tutta la regione è il carcinoma della prostata, pur se insensibile diminuzione. La prima causa di morte in Umbria invece è il cancro del colon. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, va in onda sulle televisioni della regione, è disponibile in rete sul sito dell'Assemblea legislativa e sul canale YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci. Grazie.